Il terzo capitolo della saga di Alien è ambientato su Fiorino 161, pianeta lontanissimo della Terra, dove ci sono numerosi prigionieri che devono scontare una pena. Il sottufficiale Ripley, sempre impersonato dalla Weaver, giunge su Fiorino e dovrà ancora una volta sconfiggere un alieno. Il film ha un tipo di approccio diverso dai precedenti, è infatti meno tecnologico e più cupo, particolare anche la scelta di rappare a zero gli attori.